salve a tutti ragazzacce benvenuti in un nuovo video e bentornati sul mio canale oggi uscirà l'aggiornamento delle mod come sapete oggi è uscito il titolo update numero 8 quindi molte delle mod al quale stavate giocando compresa la jd mod italian pack e ricordo che di italian pack ce n'è una solo e una soltanto quindi diffidate le limitazioni rilascerò l'aggiornamento della mod sul canale viola quindi troverete il link qui sotto in descrizione alle 21 e 30 21 e 45 abbiamo anticipato la live visto che domani ci sarà la partita dell'italia quindi molto probabilmente molti di voi saranno saranno intenti a guardare la partita quindi ci vediamo stasera e in più dopo l'aggiornamento che vi farò vedere tutto il tutorial eccetera eccetera ci faremo la seconda puntata per quanto riguarda la carriera allenatore con il verder brema di miroslav close quindi vi aspetto questa sera mi raccomando siateci perché mi porterò un bel po di contenuti e in tutto ciò gratis quindi mi raccomando a stasera iscriviti al canale